Sono a carico dei privati soprattutto se si parlano di certe cure diciamo topiche. Per quello che riguarda invece la cura di un malato grave psoriasico si deve accedere per forza di cose alla struttura pubblica che è quella che può darci quelli che sono, non li chiamiamo più innovativi perché i primi farmaci biologici sono usciti vent'anni fa. Però fra questi tutti gli anni esce qualcosa e quindi come ha detto anche il nostro professor Bianchi io adesso dermatologo ho un ventaglio di trattamenti da poterti dare che non ho mai avuto nella mia vita. Però purtroppo a volte si incontrano queste difficoltà diciamo alcuni sono anche dei prodotti costosi e chi paga non si rende conto come rendere felice una persona, farla ritornare a lavorare, farla ritornare produttiva invece sia molto più importante che continuare a farlo mantenere chiuso in casa per vergogna o per altre cose e improduttivo. Questo purtroppo ancora la medicina non è ancora diventata mentalmente sociale.